In sei giorni i ragazzi, in sei giorni, non in anni come ho fatto io, ma in sei giorni possono migliorare tecnicamente, avere nozioni sull'aspetto mentale, sapere come allenare il proprio corpo in soli sei giorni. Quindi è un grande investimento sulla propria carriera, assolutamente. In questo io davvero credo molto. All'epoca nostra una cosa del genere non esisteva e oggi questi ragazzi hanno un'opportunità straordinaria. Io mi ritengo un cavaliere, perché nasco cavaliere. Ho iniziato a montare all'età di nove anni, seguendo una vocazione in realtà. Divento un istruttore, apro il mio centro. All'inizio di insegnare agli altri non la sentivo la mia attitudine. Poi vennero nella mia scuderia dei ragazzi in serie difficoltà con i loro cavalli, difficoltà emotive, difficoltà tecniche. All'epoca io non ero ancora specializzato in preparazione mentale, ma mi veniva naturale toccare quell'aspetto. Ma di getto così, diciamo, era una cosa che a me veniva naturale fare così e lo consigliavo agli altri. E questi ragazzi si sbloccarono sostanzialmente, iniziarono ad avere dei grandissimi risultati. Lì non solo iniziai proprio ad ufficializzare a me stesso che l'approccio mentale era importante, ma mi iniziai ad appassionare all'istruzione. E lì è nato, diciamo, poi è nato il mio percorso come cavaliere, come istruttore, come preparatore mentale. Farò quello che faccio di solito durante gli stage, soprattutto quando c'è da dare una grossa spinta, cioè quando c'è da lasciare il segno. Andremo proprio a dare dimostrazione che il mio metodo è l'unione del mental coaching e dell'equitazione pura. Messi insieme si crea qualcosa di molto potente. Perché attraverso il gioco e attraverso il fare immaginare loro una determinata situazione del corpo, riusciamo a fargli avere una posizione più tonica quando serve e una posizione più dinamica, appunto, all'esigenza, insomma, per seguire i movimenti del cavallo. Un obiettivo unico, che è quello di portare eccellenza nella vita e nella carriera di questi ragazzi. Perché oggi, per come si è evoluto lo sport equestre, non puoi fare a meno di avere un'ottima preparazione tecnica, un'ottima preparazione fisica e un'ottima preparazione mentale. Si può dire che questi tre elementi, presi singolarmente, sono carenziali. Perché se tu hai tutta la tecnica del mondo, ma non ti sai gestire a livello mentale emotivo, quella tecnica te la fai fritta. Così come se hai una grande preparazione mentale, ma il tuo fisico non ti regge, cioè non hai fiato, sei asimmetrico, sei tutto su una staffa piuttosto che sull'altra, non puoi avere risultati. Quindi oggi, se vogliamo essere degli atleti, dobbiamo allenare tutti gli aspetti. E Campus Masterclass, ad oggi, è l'opportunità migliore per fare questo. Secondo me, un ragazzo che ha l'opportunità di fare una settimana a Campus Masterclass deve essere avido, deve essere avido di conoscenza. Proprio devi avere voglia di portarti a casa quanto più è possibile.